Bella per voi raga, bentornati qui sul canale della serie senza tempo, Marco e Diego Colazione Colazione, nuova colazione insieme Se magna Stanno un sacco delle cose dove parlava, poi Sarri, tutto viene da lui no? Sarri, Sarri, incredibile ragazzi, ha fatto già il video mio fratello, ma io so che voi volete sentire e vedere la mia testa Vero, lo so, questa cosa ormai, mi sono cosciente Esatto Ma che succede, insomma, incredibile ragazzi, arrivato Sarri da Lazio, tutti contenti Tre milioni e tre, più bonus che potrebbero arrivare già il primo anno a quattro se si arriva in Champions Due anni, opzione per terzo Lo ha detto, lo voglio, me lo compro E tanta roba, siamo contenti, vabbè, non c'è nient'altro da dire Vediamo che succederà sul mercato, perché pare che Sarri già abbia dato l'istruzione ai giocatori Vedete fare durante le vacanze, non mangiate questo, non mangiate questo Non mangiate questo, fareste esercizi, la corsetta, dovete fa Perché secondo me vuole che proprio che corrono Sì, 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 ma sì, lui è proprio uno come Zeeman Anche per i tiri li fa correre una cifra, li fa stanchare, giustamente Così vediamo come sarà sta preparazione, vabbè E tra i tanti nomi, ragazzi, riciccia fuori il nome che sarebbe un sogno In signe Ah, sì, però Però diciamo, noi siamo scelti No, sì, ma secondo me è una vocetta così Giusto perché ci piace Sì, sì, per destabilizzare l'ambiente Napoli Perché sì, lui vuole rinnovare Però prende 4 e 5 Vuole 5 milioni De Laurentiis sta un po' a fare Il sostenuto, però insomma Non penso che la Lazio possa dare 5 milioni a un giocatore E soprattutto anche se è scadenza di contratto Cioè 30-40 milioni o devi pagare Quindi non credo Ma poi l'arte comunque si risentirebbe un po' di sta cosa È nel signe 5 milioni Sì Capito che comunque è un gran giocatore Utile agire, però Utile agire, poi con il mobile, è bello Poi appunto pure per Ratti Sì, infatti E quindi, vabbè E invece Si è parlato anche di Politano Politano che No ragazzi, tanto so che qua sotto Tutti lo scriveranno Che Politano non vuole nessuno perché Molto forte però È forte, è forte È bravo È da Roma però Quindi Romanista così Oppure con tatuaggio da Roma, mi pare Sì, lui proprio di di Lazio Comunque, mi piace iscrizione Condividere Vero Così a buffo C'è ragione E però ecco, volevo dire che Già parlavano che se Politano era Lazio Il Napoli si stava già tutelando con Orsolini Però poi è riuscito a fare una cosa Che in realtà Orsolini E pure fuori in orbita Lazio Vabbè ragazzi Ormai si parla di tutto in realtà Tutto e niente Si Parla pure di Marusic Lazzari E Melinkovic E puntati dall'Inter Non so, vabbè Ma l'Inter non so L'Inter come fai Non c'ha una lira Forse è l'unico Marusic Sono me O magari Lazzari Che potrebbero essere abbordabili La squadra di Kolarov Dove la Lazio ha preso Kolarov Vabbè E niente Comunque sono curioso di vederlo Sicuramente sarà Sarà una cosa in più Vediamo un po' Chi sarà E poi l'ultimo In realtà che Non so quanto sei fattibile Anche l'avevamo detto Più carta o meno Fuori dall'orbita Atalanta Adesso non ci vuole Troppo E Ilicic Sì Una delle voci che sta a venire Sarri vorrebbe Ilicic Ma io non lo so È uno di quei giocatori Che se viene a zero Magari Però ha passato i 30 anni Forse li deve fare quest'anno Vabbè comunque Molto di scontino Non mi piace Molto tecnico Molto bravo Molto fantasioso Però di scontino Non veloce Quindi a me piace La veloce A parte vedremo poi Che formazione vorrà usare Se il 4-3 O il 4-3-1-2 Per avere più Non so Per cambiare di meno O meno giocatori Comunque fighissimo Da gli comandanti Amo tutti contenti E tra l'altro Lo dito Ho poi tirato fuori dal cilindro Sta cosa Durante la premiazione Perché sapete La Lazio Women È arrivata prima In campionato Quindi È di serie B E quindi È promossa in serie A Hanno fatto Una celebration Al Campidoglio Con la Raggi Una parentesi La primavera Deve fare Mi sa che Deve fare spariggi Per cercare Di arrivare In A Sì che tra l'altro Già hanno fatto Una cosa per salvarla Perché hanno detto Vabbè dai Il prossimo anno Il campionato Diventerà Insomma Diventerà di squadre Mi ricordo se diventerà A 18 Perché ora è a 16 Sì Diventerà a 18 squadre Quindi Retrocerano solo Le ultime due La terza Fa lo spareggio Con la quarta La Lazio È riuscita Arrivare a terza E cioè terz'ultima Scusate E quindi dovrà Comunque fare lo spareggio Ha perso tante partite Una partita Quattro a tre Corcaglie Arriva bene Chiusa parentesi Cambia d'allenatore Perché Una squadra Da rifare Da rifare Vedremo che succederà Speriamo bene Invece appunto Durante sta cerimonia Con la Raggi Al Campidoglio Che celebra La Lazio Women Lo dito fa Ma poi Mi voglio pure Più a Flaminio Ma si è detto Mi dà Stalla Qualcuno ha detto A chiama De Roma Salla Al centro La rimbalzata Molte volte Gli hanno proposto Mille volte Perché comunque È uno spazio Di proprietà Di Roma Capitale È in disuso È in rovina Stacca scapezzi Gli hanno proposto Mille volte Sia lo dito Che alle varie società Che gestiscono La essere Però In realtà Che sta un sacco De lavoro Da fare La rifallo Tutto Non è che Lui ha sempre Ha detto Sì sarebbe bello Ma non si può Fare da rifà tutto Invece Emo Che è una cosa Probabilmente Che saranno Degli indennizi Delle cose Ma il posto Comunque C'è Già che è stato È solo una cosa Che ha detto lui Può essere pure Che l'ha detta Giusto Perché si sente Sto periodo Sì Ormai Per usare Stadio Prima della Roma Sarebbe fichissimo La Lazio ci ha giocato Durante Anche durante I periodi di Serie B Quindi Quelli Più vecchi di me Sì Sì È quello Fino agli anni 80 Insomma Prima dei mondiali Che hanno rimordizzato L'olimpico Appunto Sì anche la Roma Ci giocava E noi Quel periodo Eravamo Serie B Quindi tanti ricordi Di Lazio Sofferta E di cuore Sarebbe Sarebbe molto figo Uno stadio Al centro di Roma A due passi Piazza del popolo Che la gente Ci andava a piedi No Cioè Molto figo Vediamo Vediamo Quanto Quanto sarà Lo dico io Verificabile Verificabile Lui dice no E quindi Niente L'ultima cosa Che diciamo De Lazio e De Sarri Che hanno appiccicato Vi dice lo sapete Di sutter meme Sulla faccia De Murigno Sullo special one Sulla Vespa Sarri che gli sputa Il fumo in faccia E quindi Sdegno I soliti Rosicoli Frustrade Frustrade del 1900 Allora poi Insulti a paparelli Così a caso Mettete un mezzo Esattamente Però fatevi una vita Mamma mia Un murale Mi manca un murale Sarebbe Arrivati da cittadino Ma che vuole più Che basta Ma poi ne ha messo Sul Colosseum E hai stato Ambrattato un muro Un murino Io faccio Scherzo E poi Paparelli Ragà ma fate ride Vabbè Lasciamo sta Ancora queste cose Ma passando un po' Noi parliamo molto Dalla Roma Di sta cosa Però c'è stata La cosa Grande acquisto Della Roma The head of the communication A capo della comunicazione Della Roma Maurizio Colpanto De buoni ragazzi Madonna cara Si Così No Però veramente Sono state Seriamente Una delle Dicharazioni Che ha detto Vedo A petto Che vi Abbiamo Un ufficio Della Roma Forza Roma Maria Maria Stanno Suonando Stanno Suonando Ma no Maurizio E' tutto Limpi Sono stato Suonando 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 Degli europei Stasera Forza Italia Forza Azzurri Scusate Forza Azzurri Non si può più di Forza Italia E' vero Perché Berlusconi Vabbè Quindi domani Poi la partita contro la Turchia E poi sta cosa Allora c'è stato un po' Mezzo caso diplomatico Perché alla fine il governo Ha deciso di non far Arrivare a voli dalla Turchia Per far vedere la partita Ai tifosi Io lavoro in un hotel Al centro E ci sono stati Tutti Turisti No ma Dalla Germania Dalla Danimarca Tutti dal nord Europa Dalla Francia Tutti i turchi Che venivano E mi dicevano Eh eh Italy Quindi insomma Non vengono da Turchia Ma hanno preso un Uber Fino in Germania Che stanno tanti Che sono trasferiti là Vabbè Comunque Sarà interessante Noi ce l'andremo a vedere A Trasferere Al Baccanale Oggi Con tutti gli altri Youtubers Che vi abbiamo detto Se volete venire a trovarci Ghiottone Stramacci E compagnia bella E Che succederà Insomma Marci ha detto Ancora hanno la sua Formazione Devevo decidere E Solito ballottaggio Belotti Immobile Intanto da forfè Pellegrini Per infortunio Per suo posto Che è una bella botta però Cioè a me non mi fanno pazzi Pellegrini Però No neanche a me Però comunque Se Mancini l'ha portata Come lo dico che sta Guardi che là Centro Campo d'Italia Funziona Sì ma poi fa pure l'esterno No Belgioli purtroppo È un altro forfè Dopo Sensi Sensi Sostrito da Pessina E Pellegrini Da Castrovilli Che comunque Non è da buttar via Quindi vediamo un po' Che succederà Siamo fiduciosi Sarà bello Ritornare a vedere l'Italia A me mi piacciono Europei Le cose Ma mi piace pure Anche un lì Ma un po' Quando è tutti insieme In realtà è molto meglio Sto a casa solo Già una birretta Una cosa Sì 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 Insulti quelli dell'altra squadra Popcorn Addosso al televisore Sì 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 È vero Quindi vediamo un po' E la cerimonia d'apertura Sarà insomma Ci sarà Aprire appunto La cerimonia Andrà Bocelli Che canterà La voce di Maurizio Costanzo In onore Di Maurizio Di Maurizio Costanzo Che ride dunque Ragazzi Fatete tutto Per essere presi per cura Vabbè Diciamo Fa una volta per uno Sì sì È una mossa di mercato Perché Vabbè Cioè Non è che se vuol dire Costanzo Non è uno che Ci sa fare Non verbale Non verbale Sì Però scritto È più una cosa De facciate Le facciate Che fatti Di macciate Appettatori Quindi ragazzi Cosa vogliamo dire di più E volevo parlare pure Un po' Di più Dei vari Acquisti Possibili Un po' di spegulazioni Finte sul mercato Faremo Il mercato Che farei Lo chiamiamo così Copiamo Plaggiamo Sì sì Lui tanto ci ha copiato La colazione E noi capiamo Sì sì Lui si fa il caffè E noi Plaggiamo La Prendo le distanze Con questa affermazione Ciao Sikolf Bravissimo In realtà E lo invidiamo Ragazzi Forza Alassio Scrivete Bella Ciao Sikolf Ciao Sikolf Ciao Sikolf